shock leader al posto di shock leader conico si usa anche filo 050 40 domanda quanti metri vanno bene per fare shock leader a bellissima domanda allora certo che si usa il filo diretto si usa il filo io lo chiamo cilindrico per differenziarlo da quello conico oggi esistono gli shock leader conici le fabbriche fanno gli shock leader conici quindi sono questi famosi parastrappi lunghi 15 metri che vanno legati sul filo fino del mulinello che poi diventa lo shock leader perché conico perché i vantaggi del conico sono soprattutto il nodo di giunzione così vai ad unire con due vespe qui fuori e praticamente ti permette di unire due fili sottili perché lo shock leader conico parte sottile quindi fa il nodino viene più piccolino non hai problemi nel lancio in uscita in rientro e poi hai la parte finale che si va a ingrandire diventa shock leader ora le aziende si sono specializzate quindi fanno questi shock leader conici che sono ideali e sono però da 15 metri la tua domanda è in caso dovessi utilizzarlo cilindrico quindi tutto 50 tutto 40 quanti metri utilizzare non devi utilizzare 15 metri ne devi utilizzare due volte la lunghezza della canna che stai col quale stai pescando quindi se sei con una 4 metri e mezzo metterai 9 metri di filo se sei con una 4 metri e 20 metterai i tuoi 8 metri di filo 8 metri e mezzo perché la fisicamente parlando la parte di filo che subisce lo strappo iniziale in fase di lancio equivale a due volte la lunghezza della canna allora la magari potrai potrei anche domandarmi perché lo shock leader conico allora è 15 metri e 15 metri lo shock leader conico perché la parte iniziale chiamata punta f è sottile infatti l'ultima parte quella che va dirsi corrisponde quasi a a quelli 7 8 metri in cui ti ho detto se lo fai diretto prendi la lunghezza della canna e molti più che la per due